Io sono stato a Wuhan un po' di anni fa con Gianni Amelio come assistente alla regia per La stella che non c'è. È una città al centro della Cina, uno snodo molto importante con ben 9 milioni di abitanti a livello residenziale. E girammo questo film con Sergio Castellito, ho chiamato subito la protagonista, che è di lì, Bianca, Joe Ting, e mi ha raccontato che i suoi genitori e tutta la famiglia, loro, sono d'origine, sono rinchiusi a giocare a mangiare a casa. E ho seguito su YouTube, qui, da cittadino italiano, quindi libero accesso a ogni forma di media, i tre YouTuber cinesi che trasmettono ogni giorno, a partire da quando si è bloccata la città, le informazioni nelle loro case, quindi anche una famiglia di giovani. Sono preoccupati, sentono anche notizie di morti, di parenti, però sono speranzosi, sono critici, a livello anche costruttivo, c'è chi è arrabbiato, però la sensazione che io sento da lì è che la mia madre patria, la potenza e il dragone cinese ha tutte le risorse in questo mondo, insieme agli stati tutti, compresa l'Italia, firmataria del progetto OBOR, di riuscire a debellare questo virus. Mi aggancio a quello che ho sentito attraverso di voi, all'utopia che il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha detto prima del debellare il virus del razzismo, commemorando oggi i morti della Seconda Guerra Mondiale. Quel virus è molto più difficile da debellare, o no? Ecco, proprio di questo vorrei parlare con lei, sul versante italiano, cos'è che la colpisce di più? Abbiamo sentito purtroppo di episodi anche sgradevoli nei confronti di cittadini di origine cinese in Italia. Non sono sgradevoli, sono pericolosi, che siano verso i rumeni, i brasiliani, gli italiani stessi, o cinesi, o terroni, o qualsiasi popolazione, qualsiasi minoranza, sono pericolosi, non sono sgradevoli, è troppo poco. Perché bisogna fermare l'epidemia, tra virgolette, del virus del razzismo nel suo nascere. E penso che, siccome abita dentro di noi, io sono razzista contro gli italiani che sono razzisti contro i cinesi, e sono razzista contro i cinesi che sono razzista contro gli italiani. Mi segue? Però il punto è che se la Valentina, che ha 19 anni, è di Venezia, è stato oggetto di sputi sul treno, solo perché è cinese, da parte di una baby gang, oppure due turisti cinesi a Venezia, città simbolo del mondo, della bellezza e della cività occidentale, gridati e insultati solo perché sono turisti e portano ricchezza d'Italia. E questo è autolesionismo. Questo vuol dire che non siamo in grado, noi italiani, di passare messaggi di solidarietà e buonsenso. Per questo sono andato a comprare una mascherina, erano tutte già comprate, e ho preso questo. Come mascherina? Buonsenso e solidarietà. Che non vuol dire smettere di guardare e criticare, anche se vuoi il governo cinese dall'Italia, però puntare sul più più, a unire i popoli. Quest'anno è l'anno della cultura e del turismo sino-italiano. Che interesse abbiamo? Passare nel mondo come i razzisti contro i cinesi?